state fermi che se no non viene sorridere salve io sono andrea 39 anni e per poco però per poco mi faccio l'autoscatto aspetta vuoi che la facciamo noi la foto? no no la foto è nuova attivazione come ti dirà? come ti dirà? come ti dirà? Luigi l'hai perso? sai che vengono già fare la fotografia agli altri ragazzi sorridete che c'è la video fotografia io sto facendo il filmino guarda aspetta, l'ho chiamato, non c'era, aspetta quanto è te? sono mille cilindri no 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 sento in basso sono mille cilindri